I Simpson compiono 30 anni, la famosa famiglia dei cartoni animati continua a raccontare la società nel suo caratteristico modo satirico e dissacrante. Gianni Maritati. Gira, gira ancora, gira ancora, gira ancora. Ora basta, mi comporterò proprio come fa l'America, unilateralmente! Cinici, riverenti, dissacranti, in una parola politicamente scorretti sono i Simpson che, ideati da Matt Groening, domani festeggiano 30 anni della loro serie la più longeva nel mondo dei cartoni animati. Primo episodio, un Natale da cani, poi un successo mondiale consacrato da copertine illustri e una stella sulla Walk of Fame a Los Angeles. Sono Bart Simpson, e tu chi sei? I Simpson in realtà hanno già festeggiato 30 anni nel 2017, ma quella era la loro prima apparizione tv con un cortometraggio e con la serie che la famiglia Simpson comincia e continua ancora oggi a raccontare la nostra società nevrodica e globalizzata. Grazie anche alla professionalità delle voci italiane, fra gli altri Massimo Lopez e Monica Ward. E poi quel loro modo così particolare di giocare con la realtà e i suoi miti, i suoi personaggi, per strapparci un sorriso, ma anche per farci fare qualche amara riflessione sul nostro tempo. Oh, ti ho preso il naso. T'ho perso un pattofaglio! È tutto per oggi.